ciao a tutti da Out of Beat e da Tony Sauffa oggi vi faccio vedere un'altra applicazione per personalizzare lo smartphone che si chiama custom widget dovete cercarlo in questo modo KWGT o la versione Pro ma è lo stesso che in pratica che cosa fa? vedete questo widget nella home è uno dei tanti che è possibile fare o diciamo fare da zero attraverso l'altra app che vi faccio vedere che è questa KLWP Pro ma anche la versione base va bene qui in pratica ve lo potete impostare da zero oppure come in questo caso andare qui e modificare i vari layout e le varie porzioni di widget disponibili in questo caso potete scaricare altri widget oppure andare a vedere quelli che sono presenti già di base vedete quanti widget ci sono cioè c'è una possibilità infinita poi in pratica ci sono dei pacchetti per esempio qui vi faccio vedere Wolfie Wolfie all'interno contiene altri widget quindi in pratica le possibilità di personalizzare la home del vostro smartphone sono di fatto infinite in questo caso vi faccio vedere come qui in pratica sotto ci sono tutta una serie di impostazioni che vi permettono di andarlo a modificare quindi in pratica potete andarvi a selezionare quello che volete e modificarlo è abbastanza complesso l'utilizzo però se vi piace divertirvi con la personalizzazione dei widget custom widget è sicuramente l'applicazione migliore che potete trovare secondo me nel panorama smartphone nel mondo smartphone quindi in pratica ripeto in questo caso potete andare a non ho capito perché non lo becca il bello della diretta carica preset perfetto oppure qui ce ne sono altri questi sono alcuni pacchetti che ho scaricato quindi potete andare ad impostarlo e lo avrete nella home detto questo ovviamente qui scarto le modifiche come si aggiunge un widget dovete tenere premuto ma qui ho Nova Launcher che poi vi farò vedere anche ma dipende dalla home qui fate la ricerca KUI è perfetto e vi esce qui poi andate qui impostate questo ci cliccate sopra andate ad impostare quello che è il vostro widget ovviamente io l'ho fatto più piccolo ma in pratica poi tenendo premuto si va a ridimensionare e vedete adesso quel widget era veramente gigantesco però in questo caso come facciamo ad andare ad impostarlo in pratica scusatemi oggetti livello lo andiamo a impostare qui ok? ridimensionare quindi qui dovrebbe uscire salviamo vedete? ce lo ritroviamo è uguale in pratica casualmente ha beccato quello uguale ma lo andiamo a impostare in questo modo poi lo andiamo a eliminare dato unisof è tutto fate i bravi alla prossima grazie a tutti